Credo che con l'apertura di questa campagna di promozioni, io pesco sicuro, si voglia attirare l'attenzione e comunque accendere gli effettori su quello che è uno dei settori più colpiti. Colpiti perché comunque per mantenere le distanze su queste barche di piccole dimensioni quindi si deve dimezzare l'equipaggio e molte volte si vanifica anche la possibile uscita in mare. Quindi noi abbiamo voluto sensibilizzare particolarmente l'attenzione su questo importante settore che riteniamo anche dal punto di vista economico strategico con l'apertura di questa campagna. Una campagna in cui verranno anche distribuiti dei gadget e in cui si vuole sensibilizzare dal punto di vista della sicurezza sia per quanto riguarda le norme anti-covid sia per quanto riguarda anche la distribuzione del pescato si vuole sensibilizzare gli utenti e anche i pescatori con una campagna di formazione e informazione. Di questo ringrazio in modo particolare le Camere di Commercio, i FLAG e i GAC che sono i nostri partner in questa importante campagna promozionale.